Allora signore, la prima vista è ginecologica? Sì, sì. Vabbè, dobbiamo fare un attimo la scheda. Vabbè, si siede intanto. Sono già seguito, dottor. Nome e cognome? Nicoletta Strambelli. Nicoletta Strambelli, come ha fatto i bravi. Quanti anni c'è? 40. 40. Li porto bene. Porto bene, effettivamente la buona. No, vabbè. E il sesso? Dottor, ma ti manca qualche diotria? Cioè, non so se ti vede. Sì, ma io di questi temi non voglio responsabilità. Dite voi, donna proprio con quella gomma. Vabbè, io che volevo chiedere, che lavoro fa lei, abbiamo detto? Vabbè, io lavoro di notte. La badante? La badante, c'è vita a me fa la badante. Ne so, metronote? No, no, nessun metronote. Imperatore ecologico, che cosa fa? L'anas? Io faccio la prostituta. Cosa? La prostituta. Scusa, non me. La prostituta. Ah, la prostituta. Eh, vabbè, io li faccio proseguire a tutta la pulata, oreo, e vabbè. Una volta in un altro, il lavoro più grande del mondo. Dottor, volevo chiedere, lei durante il ciclo ha delle perdite? Delle perdite, dottor? Dicò, non ne parliamo proprio. Almeno 700 euro a notte. Allora, alla fine del mese, il villaggio non è reattivo. Oggi ci stiamo parlando. Assurdo, ma puoi andare, puoi andare. Avanti un'altra. È la prima vista, signora? Nome e cognome? Sì, sì. Quanti anni già? Una quarantina. La parola adesso. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie.